Sei stanco della solita routine? Vola alle Canarie con noi per un ritrito di yoga e meditazione. Concediti un momento per te stesso, per riconnetterti con il tuo corpo, la tua mente ed il tuo spirito. Quanto tempo dedichi a te stesso ogni giorno? Ricordati che tu sei la persona più importante della tua vita. Vola alle Canarie con noi, riconnetteremo mente, corpo e spirito. Come? Con il nostro ritrito di yoga e meditazione. Unisciti anche tu al nostro gruppo di yoga e meditazione, dove potrai riscoprire te stesso, in una location straordinaria dal microclima fantastico. Fai splendere la tua anima come il sole delle Canarie.